Bivalente a tutti gli over 12 e come quinta dose per gli immunodepressi, il via da oggi. Dunque l'Abruzzo continua a difendersi. Rossano Di Luzio, responsabile campagna vaccinale, Asl Pescara. Che cos'è il bivalente? Il bivalente è un vaccino che ha sia il ceppo originario di Wuhan che il ceppo B1. Sarà in arrivo probabilmente verso la fine di ottobre un vaccino con il ceppo originario di Wuhan e i ceppi B4 e B5, però ancora non abbiamo una data precisa del loro arrivo. Sono vaccini per così dire aggiornati? Sì, appunto, sono vaccini aggiornati perché mentre il precedente vaccino, quello utilizzato fino a un paio di mesi fa, era solo del ceppo originario Wuhan, adesso hanno inclusi anche le varianti Omicron, quello che abbiamo adesso con l'Omicron 1 e invece il prossimo futuro anche con l'Omicron 4 e 5. Ogni ASL naturalmente decide tempi e luoghi, l'ASL di Pescara si è dato la sua strutturazione? Sì, l'ASL di Pescara attualmente ha aperto un centro vaccinale qui nel comune di Pescara che è l'ex Lidol in via Colle Renazzo numero 11 che ha aperto nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e poi ha un'apertura due volte al mese presso Contrada Campetto negli impianti sportivi del comune di Penne. La quarta dose è necessaria? La quarta dose è necessaria per chi ancora non l'ha fatta o anche per chi ha fatto tre dosi e successivamente ha avuto una infezione da Covid ma devono essere passati almeno quattro mesi dall'infezione da Covid. C'è un aumento dei contagi che va di pari passo con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche al chiuso, vi preoccupa questo? Ma ci preoccupa perché naturalmente aumentando i casi, aumentando il numero dei positivi, aumentano anche le persone che hanno una patologia grave perché sono discorsi di percentuale però insomma col vaccino si riesce a arginare questa situazione. Cade anche l'obbligo, sta per cadere l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto, non sarebbe opportuno mantenere questa misura? Ma questo deve essere un obbligo morale di tutti quanti noi, è giusto che non ci sia più un obbligo giuridico ma ci deve essere un obbligo morale per utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi, nei trasporti, in ospedale, in tutte quelle situazioni dove ci può essere un assembramento di persone.